Pronto Raffaterno? Per favore mandatemi qualcuno. Grazie Raffaele, lei è stato molto preciso e professionale. Grazie a lei passeremo una fresca estate senza consumare troppo visti i prodotti a risparmio energetico che ci è installato. Il Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il decreto firmato lo scorso 10 giugno che prevede l'assegnazione del contributo agli enti locali a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per l'annualità 2022, ha finanziato tre importantissimi progetti presentati dal Comune di Cetara. In particolare, i tre progetti riguardano la messa in sicurezza del costone roccioso prospettante gli arenili a partire dalla spiaggia della Campana in località Fuenti per un totale di 200.000 euro, la messa in sicurezza del costone roccioso, prospiciente la strada del Cannillo per la somma di 140.000 euro e l'adeguamento sismico ed efficientamento energetico della Casa Comunale per 266.000 euro. Si tratta sicuramente di un importantissimo risultato che scaturisce da un intenso e continuo lavoro durato mesi, ha sottolineato il Sindaco Fortunato della Monica. Un traguardo fondamentale per mettere in sicurezza una parte del nostro territorio e la sede del nostro Comune. Ancora una volta l'impegno costante e la passione per il bene Comune ci hanno premiato, facendosi accedere a finanziamenti che non sono scontati, ma che richiedono un impegno massiccio e continuativo da parte di noi amministratori che non ci fermiamo davanti agli ostacoli e che continuiamo ad operare per la crescita del Paese, a concluso della Monica.